Fammi pensare a qualcosa di tecnologico che non sapete Ci sono Non avete un account Netflix e non potete guardare le vostre serie preferite gratis? Vi farò vedere un metodo legale per vedere le vostre serie su Netflix in maniera gratuita Venite con me Questa settimana ho aperto il mio canale Telegram, GoPippo Quindi unitevi in questa community, io vi lascerò il link in descrizione Quindi così potremo comunicare e se avete problemi magari li potremo risolvere insieme Allora come prima cosa recatevi su Google e scrivete Netflix e date invio Dopodiché troverete la pagina Netflix d'Italia, cliccate qui Ecco a questo punto se non avete un account vi chiederà di farlo ma noi non lo facciamo Andiamo nella barra degli indirizzi qua in alto, diamo un click sul nero Diamone un altro e ci darà la possibilità di scrivere Qui dobbiamo scrivere w a t c h watch barra free con due e Significa guarda gratis Dopodiché vi si aprirà una pagina dove potrete vedere alcune delle serie gratis su Netflix In maniera gratuita Infatti se andiamo più giù possiamo vedere alcune delle serie maggiormente viste Ne abbiamo diciamo un 5-6 da poter vedere Ogni tot di tempo cambieranno così da poter vedere altre serie E così potrete vedere le vostre serie senza pagare un euro Quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale qui sotto dove si vede qui sotto E accendete la campanella Mi raccomando molto importante per vedere la notifica di un mio video Quindi con le serie di Netflix gratuite in maniera legale È tutto, rimanete sintonizzati Ci vediamo alla prossima Ciao Guardiamo le nostre serie Guardiamo le nostre serie Ciao 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 Grazie a tutti.